Ciao ragazzi, secondo giorno qui alle 3, oggi è una giornata particolare perché è già finita nel senso che non siamo riusciti a fare video in tutto il giorno perché eravamo presi con un milione di appuntamenti e quindi questo video dietro le quinte sarà un video gastro culinario e qualcos'altro perché lo passeremo, lo gireremo nel corso della serata andando a mangiare hamburger giganti quindi adesso nello stesso meraviglioso posto di risera con un bisonte che è un posto in cui ognuno può comporre il proprio hamburger mettendo qualunque cosa dentro, cioè qualunque cosa passa per la destra la mettete e vi fate l'hamburger anche la mano del cameriere se vuoi, ti mette la mano e tu mordi quindi oggi vi facciamo vedere che cosa succede all'interno di questo posto ma prima di andare avanti con il video vorrei dire che questo video è sponsorizzato da Aunt Gemima la più famosa cuoca americana che fa i pancake e quindi ricordate ragazzi Spazio Games oggi è offerto da Aunt Gemima i migliori pancake esistenti ok siamo entrati finalmente e abbiamo ordinato i nostri panini per questa sera vediamo un po' che cosa c'è lo stesso bisonte di ieri vuoi aprirlo cortesemente? e questo è chili di tacchino chili di tacchino ragazzi io vi dico solamente guardate quanto è alto il mio panino è veramente altissimo c'è un ascensore c'è un ascensore e non riesco a chiuderlo e probabilmente non riescerò neanche a mangiarlo è qualcosa di pazzesco io ho messo il prosciutto di foresta una cosa che sono dovuto andare ad ammazzarlo adesso bisonte, mozzarella un altro tipo di formaggio che non ricordo chili, gialapegno e guardate ragazzi che quanto è altro non so se riuscirò a digerire stasera però insomma bocca al lupo a me io invece sono andato sul più leggero con un panino con carciofi e anche un'insalata di cavolo e un sacco di roba piccante tra cui una salsa a banero che mi dicono essere la salsa più piccante del mondo tutto si sembra bene? sì, tutto si sembra bene è passato lorenz fischburn avete presente il... avete presente il nero di matrix? pillola rossa o pillola blu? ebbene era lorenz fischburn con un corpo da donna con i che... lorenz fischburn una via di mezzo genetica con lorenz fischburn e serena william una roba schifata queste sono le sorprese di los angeles quindi chissà che sorpresa aveva lei a questo punto sorpresa molto grande a dopo bene si conclude così la serata dopo che quest'uomo è riuscito a mangiare quattro animali diversi dentro un solo panino c'era allora bisonte e prosciutto di montagna tacchino e mozzarella di campestre un cameriere vivo un cameriere vivo e dopo aver visto fischburn con la faccia... col corpo da donna una cosa abbastanza... ma anche cose peggiori abbiamo visto questa sera sì c'era... la serata si conclude davanti al computer perché dobbiamo scrivere gli articoli e quindi anche oggi sarà una lunga nottata temiamo... non si dorme... non si dorme... non si dorme... non dormiremo perché? perché abbiamo visto una... da dietro una bionda ma aveva due spalle così e lì abbiamo capito che non era esattamente... non era una bionda... esatto... un altro motivo perché non si dorme è che tornerà Valentini a notte fonda... tenterà di molestarmi sessualmente e dovrò difendere il mio onore dal Valentini... so cosa che capita insomma... va bene... niente... ci fermiamo qua e ci vediamo domani dove un... tempratissimo Valentini cercherà di realizzare un video tour di tutte le tre e anche magari finire il video delle babes che sta procedendo bene... siamo tutti in attesa... ciao... ciao...